La farmacodinamica è una componente della farmacologia che studia i bersagli farmacologici, quindi l'interazione con esititazione, interazioni chimico-fisiche e la sequenza farmaco-effetto. Quando parliamo di farmaci spesso parliamo di recettori, perché abbiamo dei recettori soprattutto di membrana che sono molto importanti e i farmaci possono praticamente alterare in maniera quantitativa più che altro la funzione, ma non possono impartire nuove funzioni fisiologiche, quindi possono per esempio aumentare o diminuire attività, ma non creare nuove funzioni. Tra i recettori abbiamo i recettori GPCR, che sono dei recettori a 7 domini di transmembrana, che tramite dei meccanismi di trasduzione stimolano le proteine G a produrre l'MP ciclico e il CGMP, quindi il P3 DAG, con effetti cellulari. E abbiamo più di 700 membri. Tra i primi scoperti ci sono quelli per esempio della batteria erotopsina, poi abbiamo i recettori canale, che praticamente sono correlati a un ligando, che quando arriva un segnale, vedete, si aprono e fanno entrare degli ioni, ma anche possono chiudersi. Poi abbiamo i recettori nicotinici, che sono quelli che si trovano soprattutto a livello delle cellule nervose, a livello neuronali, e che sono deputati a legare appunto a rilasciare cetilcolina. Poi abbiamo quelli glutammatergici, ionotropici e metabotropici. Gli ionotropici sono l'AMP e il cainato, mentre quelli metabotropici sono gli NMDA, cioè gli NPD di aspartato. Poi quelli GABAergici invece sono di due tipi, soprattutto poi saranno importanti questi per alcuni tipi di farmaci. In particolare i GABAergici sono ionotropici e sono i GABA A. Permettono l'ingresso del cloro, mentre i GABA B saranno, vedremo poi, diciamo, avranno altre funzioni. Poi queste sono affrontate nella farmacologia speciale. Poi ci sono dei recettori che sono quelli di rosinchinasici, come ad esempio il recettore dell'insulina. Questi recettori hanno un'affinità appunto per ormoni peptidi e possono essere correlati soprattutto a, per esempio, la loro alterazione alla progressione tumorale oppure a processi cellulari. Poi abbiamo i recettori integrinici, che sono dei recettori transmembrana, che hanno bisogno di un legame colligando per effettuare una trasduzione del segnale e quindi mandare poi dei segnali cellulari. Questi spesso sono sotto forma di eterodimeri e possono avere un effetto bidirezionale. Poi abbiamo i recettori intracellulari, che appunto interagiscono come ricandili liposolubili e sono appartenenti alla famiglia del DNA binding protein, quindi di proteine che legano il DNA. Qui, per esempio, se abbiamo un farmaco agonista, cosa fa il farmaco? Lega e attiva un recettore che entra all'interno del nucleo, riconosce il DNA cromosomico e magari può effettuare delle modificazioni, come accade per i recettori dei corticosteroidi, che modificano le heat shock protein, micro nel nucleo attivando o inibendo, quindi modulando in positivo e negativo, la sintesi proteica. Poi ci sono degli enzimi, ovviamente, che sappiamo che normalmente aumentano la velocità della reazione chimica, ma se non usiamo dei farmaci possiamo alterare la cinetica enzimatica. Un esempio sono i farmaci FANS, come inibitori delle cicloossigenasi, poi possono avere un effetto antinfiammatorio, antipiretico e analgesico. Questi farmaci FANS sono tanti e in particolare abbiamo per esempio l'aspirina, che è un inibitore irreversibile alle cicloossigenasi tipo 2, che è l'unico farmaco FANS ad avere un effetto antiaggregante. Poi è importante soprattutto l'interazione farmaco-recettore, perché ha delle caratteristiche specifiche, cioè è saturabile, è stereospecifico, reversibile, può dare effetti indesiderati o desiderati e è legato tramite legami deboli. Saturabile, perché all'aumentare della concentrazione del farmaco può esserci una saturazione dei recettori totale, ma in clinica comunque noi non utilizziamo una saturazione totale, ma parziale. Stereospecifico, perché se ci sono due siti, due stereosomeri, di solito un farmaco ne sceglie uno preferenziale, reversibile, anche se l'aspirina, abbiamo detto, è irreversibile, però solitamente i farmaci sono reversibili. E i legami deboli, appunto, sono quell'idrogeno, le forze di Van der Waals o legami idrofobici. Per il concetto di saturabile è importante definire la KD. Praticamente abbiamo detto che quando aumenta la concentrazione del farmaco si può avere la saturazione del recettore fino a che poi questa concentrazione non si attenua. A sinistra è rappresentata la curva con la KD, a destra abbiamo messo una, diciamo, più logaritmica, però il zucco del discorso è che praticamente noi dobbiamo calcolare la KD, cioè la metà, la concentrazione, la cui metà dei recettori sono saturi. Quindi se qui la KD è di 10 alla meno 8 vuol dire che a questo valore metà dei recettori sono appunto stati saturati. E quindi indica in termini brevi che questa KD ci fa, possiamo dire, capire qual è l'affinità del farmaco per il recettore. Poi abbiamo la curva dose risposta. La curva dose risposta è importante perché l'effetto dei farmaci è proporzionale anche al numero dei recettori occupati. Possiamo calcolare due valori. Uno è la 10-50 e l'altro le max. Partiamo da le max che è l'effetto del farmaco massimo dove tutti i recettori possono essere occupati. La 10-50 invece è il 50% della dose massima, cui metà dei recettori sono saturi. Poi abbiamo un altro importante fattore che è la potenza. La potenza di un farmaco significa che un farmaco è affine di più per un determinato recettore. E questo si valuta con la posizione, per esempio, della curva dose risposta di queste curve. Che cosa significa? Noi a sinistra abbiamo il rosso, per esempio l'acidilcolina, e a destra abbiamo la proponilcolina. L'acidilcolina avrà una maggiore potenza perché la curva è spostata verso sinistra. Significa che avrà una maggiore affinità per il suo recettore rispetto alla proponilcolina e avrà anche quindi una 10-50 che viene raggiunta a concentrazioni minori. E' importante poi anche l'efficacia terapeutica, cioè quanto è efficace, l'efficacia massima del farmaco su un tessuto. In questo caso andiamo a considerare non la posizione come la potenza, ma l'altezza della curva dose risposta. Più è alta la curva, più sarà efficace il farmaco. E poi si calcola anche un altro parametro che è l'attività intrinseca. Cioè ci sono dei farmaci che hanno un'attività intrinseca più elevata, come i farmaci agonisti, poi intermedia come gli agonisti inversi e poi come gli antagonisti. Quindi l'efficacia viene valutata in base all'attività intrinseca. Poi abbiamo l'indice terapeutico che indica la sicurezza di un farmaco. E si calcola la dose terapeutica 50 fratto la dose efficace 50. Significa che appunto DT50, l'abbiamo visto prima, la dose terapeutica cui 50% dei risettori sono saturi e lo stesso l'ADE vale per la dose efficace. Perché è importante l'indice terapeutico? Perché se noi abbiamo dei farmaci con un elevato indice terapeutico, vuol dire che gli effetti collaterali, per essere più manifesti, insorgono nel momento in cui abbiamo un alto dosaggio. Poi è importante valutare anche il margine di sicurezza, che si calcola dal rapporto tra DT1 e D99. DT1 è la tossicità che si manifesta nell'1% dei pazienti che abbiamo preso in esame, D99 è la dose efficace nel 99% dei pazienti. Quindi i farmaci sono suddivisi in farmaci agonisti, con un'attività intrinseca pari a 1 e hanno una risposta biologica che riproduce quella dell'endogeno. Poi gli antagonisti hanno un'azione quindi opposta agli agonisti. Se ad esempio gli agonisti stimolano il recettore, gli antagonisti vanno a inibire. Quindi legano un'affinità elevata al recettore, ma non danno una risposta biologica. Gli agonisti inversi invece hanno un'azione opposta rispetto agli agonisti e legano un recettore costitutivamente attivo, cioè sono dei recettori che comunque mandano dei segnali anche se non sono occupati, cioè anche se manca l'agonista. E quindi legano questi recettori costitutivamente attivi che riducono l'attività basale del sistema preso in considerazione. Gli antagonisti sono suddivisi poi in competitivi e non competitivi. Competitivi sono detti sormontabili perché all'aumentare il segmento l'agonista verrà sormontato l'effetto dell'antagonista e possono legare reversibilmente il recettore sullo stesso sito dell'agonista, quindi andando a competere per un sito comune. Se io per esempio in un paziente somministro la cedilcolina ha un certo effetto, mentre se somministro anche l'atropina vedete che la curva dose risposta si sposta verso destra, quindi se metto l'atropina, somministro l'atropina insieme all'acidilcolina, l'atropina va a ridurre la potenza dell'acidilcolina. Ovviamente se aumento la dose di agonista viene comunque raggiunto l'effetto massimo come quando non c'è l'antagonista, mentre i farmaci non competitivi sono non sormontabili e possono essere irreversibili, cioè si legano allo stesso sito dell'agonista o all'osterici si legano a un sito diverso dall'agonista e di solito quindi quelli nel caso in cui somministro un farmaco vedete la N significa che in questa curva è l'effetto che normalmente è un farmaco, se somministro questo farmaco la curva va a diminuire in termini di altezza. Poi abbiamo i farmaci allo sterici che sono dei farmaci che non legano un sito orto sterico che è il sito canonico dove si legano i farmaci ma a un sito allo sterico che si trova all'interno magari di un canale. Che cosa significa questo? Che praticamente se noi somministriamo dei farmaci sono selettivi questi per il sito allo sterico e non per il sito orto sterico però per agire hanno bisogno delle molecole endogene che normalmente si legano su siti orto sterici. Per capire meglio per esempio abbiamo le benzodiazepine che sono dei farmaci di tipo allo sterici. Le benzodiazepine legano il sito allo sterico che è questo nella figura a destra e mentre poi vedremo che il GABA si lega nel sito orto sterico. Questo legame insieme di benzodiazepine e GABA fa sì che il canale del cloro per esempio sia ancora più aperto quindi passa più cloro nella cellula andando a dare un effetto di iperpolarizzazione. Infatti questo viene sfruttato nel trattamento dell'ansia perché abbiamo magari uno stato di per esempio iperattivazione neuronale e quindi tramite questo meccanismo le benzodiazepine vanno a potenziare l'effetto del GABA seguendo una fisiologia spaziale e temporale. Poi un altro fenomeno è la desensitizzazione cioè se noi andiamo a stimolare cronicamente dei recettori avremo una tolleranza farmacodinamica per un certo farmaco e questo avviene per esempio in alcuni farmaci come anche per esempio alcuni ansiolitici che magari cosa accade? Che questi pazienti dopo un tot di tempo si abituano a una certa concentrazione di farmaco e quindi a una certa dose ne hanno bisogno sempre di più per avere gli effetti sperati magari per esempio andare a diminuire il sonno. Tuttavia questa cosa è importante perché quindi significa che i recettori si abituano in un certo qual modo al farmaco ma se io vado a sospendere temporaneamente la somministrazione delle benzodiazepine questo accade soprattutto per l'epilessia possa avere un effetto veramente importante collaterale che insorge in questi pazienti invece delle crisi epilettiche del grande male quindi con questo per rendere l'esempio della desensitizzazione che sono sostanzialmente quindi con questo per rendere l'esempio della domenica e quindi per la rin pertrogramente che si abituano in un'esempio della desensitizzazione